Grave incidente ferroviario poco fa sulla linea dell'alta velocità fra Milano e Bologna ha deragliato un convoglio vicino Lodi, una vittima, diversi feriti. Stati Uniti con un voto a maggioranza repubblicana, il Senato ha assolto Donald Trump dalle accuse di abuso di potere e ostruzione al Congresso. Si chiude così la richiesta di impeachment avanzata dai democratici. Per la speaker della Camera Nancy Pelosi, Trump resta una minaccia per la democrazia del Paese. Sono al momento 549 le vittime del coronavirus, oltre 28 mila le persone contagiate. Fra queste vi sono almeno una ventina di passeggeri su una nave da crociera da ieri in quarantena. L'Organizzazione Mondiale della Sanità smentisce l'annuncio di Pechino su due farmaci efficaci contro il virus. Al momento non esiste alcuna terapia. Restano gravi ma stabili le condizioni della coppia cinese ricoverata allo Spallanzani di Roma. Alta tensione nella maggioranza sulla prescrizione e la riforma del processo penale. Scintille fra il ministro della giustizia Bonafede e Italia Viva. Il premier Conte vuole evitare lo scontro in aula, cerca una difficile mediazione. I 5 Stelle sono pronti a scendere in piazza contro il ritorno dei vitalizi. Addio a un grande protagonista del cinema, Kirk Douglas. Una carriera lunghissima, ha interpretato 75 film dai colossali western ai successi firmati da Stanley Kubrick. Premio Oscar alla carriera nel 1996, premio Oscar dopo diverse nomination, aveva 103 anni. E allora buongiorno dal telegiornale che apriamo con una notizia arrivata negli ultimissimi minuti di questo grave incidente ferroviario che è avvenuto alle porte di Lodi dove il Frecciarossa Milano-Salerno è deragliato. Al momento si conta già una vittima, un morto e diverse persone ferite, almeno una trentina. Non sarebbero ferite in modo grave da quello che risulta al momento, ma come potete immaginare, questi sono davvero i momenti in cui si sta ancora cercando di portare aiuto alle persone presto per fare un bilancio. Secondo quello che ci dicono le fonti presenti sul posto, almeno due convogli si sarebbero ribaltati per cause che però al momento è assolutamente prematuro poter anticipare e quindi ovviamente ci sarà poi un'inchiesta per capire che cosa sia successo per l'appunto a questo treno Frecciarossa. Intanto noi adesso invece andiamo a vedere quello che è successo qualche ora fa, nella notte, ma negli Stati Uniti. Sapete che era abbastanza scontato il risultato del voto sull'impeachment per il Presidente degli Stati Uniti. Donald Trump l'unico sussulto, l'unica sorpresa se volete è stato il voto contrario di un repubblicano, Mitt Romney, che però pagherà cara probabilmente questa sua ribellione perché già oggi il Presidente Trump ne ha chiesto la cacciata dal partito. Assolto da ogni accusa, abuso di potere e ostruzione al Congresso, il voto era scontato, la politica ha avuto la meglio, i repubblicani hanno usato la maggioranza in Senato per formare uno scudo intorno al loro Presidente ed evitare che nell'anno elettorale venisse non solo stromesso dal potere, ma anche non potesse ripresentarsi come candidato. Solo un senatore ha rotto la disciplina di partito, Mitt Romney, ex aspirante alla Casa Bianca. I democratici possono lamentare un processo di impeachment affrettato, per primo da parte loro, superficiali nel convocare testimoni alla Camera, quando ne avevano il potere, mossa che in seguito ha consentito ai repubblicani di negare integrazioni al Senato. Si chiudono così tre giorni trionfali per il Presidente, che ha usato il palco istituzionale dello Stato dell'Unione per fare un comizio elettorale, sigillato da due eventi unici, la mancata stretta di mano della Speaker della Camera, Nancy Pelosi, la quale per tutta risposta alla fine ha stracciato platealmente il discorso di Trump. Quelle pagine sono solo una raccolta di bugie, ha spiegato poi in TV la Pelosi. Sono l'uomo che ha messo fine alla grande carneficina americana, ha detto il Presidente, citando il suo primo Stato dell'Unione, e creato la grande rivincita, elencando tutti i suoi successi per più di un'ora. Non sono mancati gli attacchi ai democratici, definiti socialisti, alle città democratiche, New York e Los Angeles, definite santuario dei criminali, e l'insulto più grande a metà degli americani. La consegna della medaglia del Presidente a Rush Lim, star della radioconservatrice, coinvolto in scandali sessuali, nell'abuso di farmaci, megafono della destra estrema, considerato dai democratici un fomentatore dell'odio contro tutte le minoranze. Una scelta in pieno stile Trump, che ha galvanizzato la sua base, ed i risultati stanno arrivando, il suo gradimento ora in forte ripresa, mentre dalle primarie democratiche, dove ancora mancano i risultati definitivi del primo voto in Iowa, stenta ad emergere un vero oppositore. Ci sono delle notizie che invece arrivano da Gerusalemme, non sono buone notizie, c'è stato un attentato terroristico nel centro di Gerusalemme, ci sono una dozzina di soldati della Brigata Golani, che sono stati falciati da un'auto che è stata sostanzialmente lanciata contro di loro, volontariamente ovviamente, dal centro di Gerusalemme. Uno dei soldati è ferito in modo grave, gli altri no, e ovviamente a questo punto, ecco le qua, le immagini che ci arrivano, vedete questa notte dal centro di Gerusalemme, si sta cercando l'uomo autore del gesto, che non è stato per il momento, per l'appunto, arrestato. E poi ci sono le notizie che arrivano dalla Cina, con un ulteriore aggiornamento del numero delle vittime, 565 in questo momento, 28.289 le persone contagiate, tanti anche coloro che sono stati dimessi però in questi giorni, in queste ultime ore, dagli ospedali, che sono riusciti a guarire. Anche se, come sapete, una cura ufficiale non esiste, non solo non esiste, ma quelle che sono state annunciate sono state in qualche modo smontate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, che ha detto ci vuole comunque una sperimentazione, per cui bisogna andarci cauti. La Cina ha annunciato il dimezzamento dei dazi su 1.600 beni importati dagli Stati Uniti per un valore di 75 miliardi di dollari. rimanca ancora un mese alla firma della fase 1 dell'accordo sul commercio raggiunto con Washington, ma la Commissione sulle tariffe del Consiglio di Stato di Pechino ha deciso di anticipare la misura al 14 febbraio. Gli effetti dell'epidemia del virus stanno provocando forti limitazioni all'ingresso nel paese di beni e merci estere, con rischio di gravi carenze per le filiere produttive. La decisione vuole essere anche un segnale ai mercati interni e già ieri le borse cinesi, dopo il tracollo di lunedì, hanno continuato a recuperare terreno, arrivando a toccare il segno positivo sia a Shanghai che a Shenzhen. Le vittime dell'epidemia hanno superato quota 500, tutte in Cina, a parte un caso a Hong Kong e uno nelle Filippine. Oltre 28.000 i contagi registrati, con 1.147 guarigioni accertate. Il picco del virus però non è stato ancora raggiunto. Nella provincia di Wuhan, la città epicentro dell'epidemia, la mobilitazione continua. Mancano ancora almeno 10.000 posti letto per fronteggiare il momento di massima espansione del contagio. È partita intanto l'epurazione interna all'amministrazione sanitaria, che ha portato finora al licenziamento di almeno 400 dirigenti non ritenuti all'altezza della crisi. Sul fronte della ricerca medica, segnali incoraggianti arrivano dai farmaci antimalarici come la clorichina, che sembra diano risposte positive nel trattamento del virus, anche se l'Organizzazione Mondiale della Sanità frena. Non esiste alcuna terapia. A Hong Kong, dopo le proteste di ospedali e personale medico, la governatrice Carrie Lam ha deciso l'obbligo di due settimane di quarantena per chi arriva dalla Cina, nel porto dell'ex colonia britannica, è attraccata alla World Dream, la nave da crociera da 1800 passeggeri da cui sono stati sbarcati i tre positivi al coronavirus. Da tre giorni invece è ferma a largo di Yokohama, la nave giapponese con più di 10 contagi accertati e quasi 4000 passeggeri in quarantena. Insomma, quindi chi guarisce lo fa perché il proprio organismo reagisce bene, sviluppa gli anticorpi, perché viene assistito nel modo corretto con le terapie corrette, per esempio quelle per respirare. È il caso dei due signori cinesi che come sapete ormai da giorni sono ricoverati all'ospedale Spallanzani di Roma, le loro condizioni sono stazionarie, intanto si sta cercando di far rientrare in Italia un altro gruppo di italiani, in particolare di studenti, che erano andati in Cina nei giorni scorsi, nei mesi scorsi, proprio per svolgere il loro studentato. L'attenzione resta alta, ma dal fronte italiano del coronavirus non ci sono segnalazioni di nuovi casi accertati. Già questa in sé è una buona notizia. I medici dello Spallanzani definiscono stazionarie le condizioni dei due turisti cinesi ricoverati nel reparto di terapia intensiva dell'Istituto, che hanno contratto il virus e restano in prognosi riservata. Nell'ospedale romano, specializzato nella cura delle malattie infettive, sono ricoverati altri quattro pazienti provenienti da zone della Cina interessate dall'epidemia. Si attendono gli esiti dei test a cui sono stati sottoposti. Mentre restano in osservazione altre 20 persone che erano entrate in contatto con la coppia cinese proveniente da Wuhan, ma che finora non presentano sintomi della malattia. A Verona sono stati effettuati controlli su due dipendenti dell'albergo dove i coniugi cinesi avevano soggiornato. Ad una addetta delle pulizie già risultata negativa si è aggiunta una dipendente della reception ricoverata per precauzione con i sintomi dell'influenza. Si moltiplicano gli sforzi per ridurre al minimo le possibilità di diffusione del contagio. Controlli rafforzati sui viaggiatori in arrivo dall'estero negli aeroporti attraverso telecamere e termometri scanner estesi anche alle navi provenienti da paesi europei. Ma finora dice il capo della protezione civile Borrelli commissario straordinario del governo nella gestione dell'emergenza non sono stati segnalati casi sospetti. Adesso si lavora per il rientro in Italia dalla Cina di oltre 100 studenti inseriti in programmi di interscambio culturale. Torneranno con voli civili attraverso scali indiretti ferma restando la chiusura di quelli diretti tra l'Italia e il paese asiatico. Veniamo adesso alle questioni che agitano la politica in primo luogo la prescrizione che come sapete è entrata in vigore ma che potrebbe essere ulteriormente rinviata o almeno ci potrebbero essere dei correttivi così come peraltro erano già stati immaginati in un primo tempo e che riguardano ovviamente la riforma dei processi. Intanto oggi è il giorno del ministro della giustizia Bonafede che però esclude qualsiasi ipotesi di rinvio per l'appunto dicendo se il presidente Conte dovesse chiedermelo io potrei lasciare quindi fare sostanzialmente un passo indietro. Ancora alta tensione nella maggioranza sul caso prescrizione volano scintille in particolare tra Italia Viva e il ministro per la giustizia il pentastellato Bonafede che prima smentisce che ci siano delle trattative in corso e poi attacca così c'è chi minaccia e urla io lavoro siamo in maggioranza invece vedo toni di chi sembra l'opposizione a volte sembra che ai testi glieli scriva Salvini o Berlusconi le parole di guardasigilli sono la risposta a Matteo Renzi che qualche ora prima aveva detto i 5 stelle non hanno i numeri sulla prescrizione dovranno cedere come lo faranno e in che tempi è da vedere ma molleranno la linea attendista del PD ha pochi giorni di autonomia fermeremo questa legge in un modo o nell'altro credo senza proporre la mozione individuale a questo punto si rende ancora più urgente l'azione di mediazione del Premier intanto il vertice di maggioranza che dovrà affrontare la delicata questione della prescrizione è slitta data da destinarsi tutto ruota attorno alla immodificata posizione del movimento che difende la nuova legge entrata in vigore il primo gennaio infatti Bonafede dice per i 5 stelle il blocco della prescrizione è una battaglia storica e poi ribadisce il suo no a ogni ipotesi di rinvio un rinvio che dovrebbe favorire un riequilibrio tra la prescrizione e la ragionevole durata del processo penale allo studio proprio del Ministro della Giustizia quindi ora tutti guardano l'iniziativa del Premier Conte che dovrebbe portare alla quadratura del cerchio il Presidente del Consiglio comunque si muoverà con un forte passivo in questo caso i suoi due precedenti tentativi di mediazione andati male il primo con la distinzione tra colpevole e innocente in primo grado ad alto rischio di incostituzionalità il secondo con il blocco della prescrizione solo dopo il secondo grado di giudizio ma è una corsa contro il tempo per Parazzocchigi e i partiti di maggioranza il 24 febbraio infatti la Camera voterà la proposta di legge del forzista Enrico Costa che punta ad azzerare la riforma Bonafede con i Renziani che in caso di mancato accordo si dicono pronti a sostenerla e però non è finita sapete che c'è anche un'altra questione apertissima che è quella dei vitalizi perché in realtà è un meccanismo quello che si può smontare facilmente non era stata fatta una vera propria legge e quindi adesso chi può ha fatto ricorso il Movimento 5 Stelle non ci sta e chiama tutti alla piazza in piazza il 15 febbraio per impedire che venga cancellato il taglio dei vitalizi quello previsto anche per gli ex senatori ad annunciare la manifestazione dei 5 Stelle Luigi Di Maio che si riprende la scena rindossando i gradi di capitano nonostante il recente passo indietro è lui nel video che attacca il sistema che dice vuole cancellare le nostre leggi un atto di restaurazione che inizia con i vitalizi io il 15 febbraio sarò con voi personalizza quasi a dimostrare che le gerarchie nel Movimento non sono cambiate molto abbiamo fatto la prescrizione e vogliono cancellarla abbiamo fatto il reddito di cittadinanza e vogliono un referendum per toglierlo l'accusa ancora del ministro degli esteri messaggio rivolto agli alleati di maggioranza ma evidentemente anche ai colleghi di partito e al premier Conte per l'ex numero 1 è inaccettabile rimanere al governo sacrificando tutto quello che è stato fatto con la precedente maggioranza linea dura in realtà lanciata ancora prima dalla vicepresidente del Senato Paola Taverna in una gara interna in vista degli stati generali per i 5 Stelle la cancellazione dei vitalizi ai 700 ex senatori che hanno fatto ricorso sarebbe un colpo durissimo per questo Di Maio come Taverna se la prendono anche con la presidente del Senato Casellati colpevole di aver nominato il forsista Giacomo Caliendo alla guida della commissione giudicante per i 5 Stelle c'è un evidente conflitto di interessi che il diretto interessato però respinge ma contro i 5 Stelle prende posizione anche il presidente dell'associazione degli ex parlamentari Antonello Falomi la politica non c'entra niente spiega Falomi che accusa il movimento di voler condizionare un organo giudicante iniziativa senza precedenti dice avrete sicuramente presente le immagini dell'aereo turco spezzato in tre parti arrivato ieri per l'appunto all'aeroporto di Istanbul sembrava non ci fossero vittime e invece purtroppo ci sono tre persone che hanno perso la vita in seguito alle ferite riportate per quell'atterraggio che definire comunque incredibile è già molto e a proposito di a di è morto Kirk Douglas aveva 103 anni era davvero un veterano di Hollywood un'icona di Hollywood di lui ricorderemo il fisico atletico roccioso lo sguardo segnato da profondi occhi azzurri e quella inconfondibile fossetta al centro del mento se ne è andato all'età di 103 anni questa notte Kirk Douglas io credo nell'immortalità diceva io sono immortale perché una parte di me vive nei miei figli ecco il concetto io non ho paura di morire e l'indimenticato protagonista di Spartacus ci credeva veramente nasce nel 1916 ad Amsterdam nello stato di New York il suo vero nome era Isur Demski Danielovich unico maschio di sette figlie da una coppia di immigrati ebrei bielorussi la sua infanzia è segnata dalla povertà suo padre come ricorderà nella sua autobiografia era un venditore di stracci lui si mantiene facendo il cameriere poi il direttore dell'accademia d'arte drammatica lo ammise per merito ma il suo esordio nel cinema lo deve all'attrice Laura Bacal e lei la moglie di Bogart ha di introdurlo nel mondo dorato di Hollywood con l'attrice vive un breve amore uno dei tanti Douglas tra un film e l'altro semina cuori infranti molte delle star cadono ai suoi piedi a cominciare da Marlene Dietrich il primo grande successo arriva con il grande campione che gli vale la sua prima nomination agli Oscar è il 1949 solo due anni dopo nel film il brutto e la bella interpreta un cinico produttore ed è la seconda nomination in quasi tutti i suoi film un'ottantina nella sua lunga carriera interpreta il protagonista duro e spigoloso Spartacus sui orizzonti di gloria il bello e il brutto nel 1954 sposa la produttrice Annie Bedins ed è il suo secondo matrimonio il primo nel 1943 con Diana Dill dal quale nasce l'attore Michael Douglas dalla seconda moglie altri due figli Vincent ed Eric morto quest'ultimo per overdose a 46 anni altre tragedie segnano la sua vita nel 91 sopravvive ad un incidente in elicottero nel 96 viene colpito da un ictus che gli toglie quasi del tutto la parola sono stato fortunato dirà la star di Hollywood finalmente apprezzo il dono della vita c'è il campionato adesso campionato di calcio la Lazio ha fallito la grande occasione sorpassare l'Inter e portarsi ad appena due punti dalla Juve il recupero della diciassettesima giornata con il Verona è finito senza gol partita tesa con ritmi da campionato inglese aperta sino alla fine pareggio giusto le difese hanno prevalso sugli attacchi il Verona ha confermato di essere una squadra tosta ben allenata non perde da sette gare di fila e un motivo ci sarà ha sfiorato per due volte il vantaggio bravo Stracoscia ad evitare l'autogol di Milinkovic a inizio match e nel finale a respingere una conclusione di Borini la tattica di Juric ha funzionato mettere pressione all'avversario uomo contro uomo a tutto campo corsa a velocità a piedi buoni una strategia sofferta dalla Lazio che si è accesa solo a tratti e quando l'ha fatto ha trovato sulla sua strada un grande portiere Silvestri che ha parato tutto male e immobile bene invece Luiz Alberto di sicuro il migliore in campo due sue conclusioni sono state respinte dal palo e nel finale è stato ancora una volta Silvestri a negare la rete della vittoria allo spagnolo per la Lazio si tratta del 17esimo risultato utile consecutivo e guagliato il record di Ericsson ma stavolta a prevalere sono stati gli impianti per la grande occasione fallita è un campionato che va avanti senza sosta è già vigilia domani sera Roma e Bologna apriranno la 23esima giornata una giornata che vedrà l'esordio sulla panchina del Toro di Moreno Longo e su quella del Brescia di Diego Lopez il tecnico uruguaiano è subentrato a Corini portando il numero degli esoneri a 11 in 22 giornate e il record europeo per fare di peggio occorre risalire alla stagione 2010-2011 prima di chiudere un aggiornamento doveroso della notizia con la quale abbiamo aperto ovvero questo incidente occorso ad un Frecciarossa all'altezza di Casal Pusterlengo in località Livraga vicino Lodi si trattava del Frecciarossa Milano-Salerno partito alle 5 e mezzo del mattino due vetture deragliate più la vettura di testa due le vittime al momento secondo quanto ci stanno comunicando i vigili del fuoco e almeno una trentina di feriti dobbiamo chiudere ci scusiamo per il ritardo con Paolo sotto corona ovviamente con Gaia Tortora l'appuntamento come sempre è per domani mattina